Inizio io? Ok, no, vi è... E che cazzo, Norma, inizio io? Gamba mia, regole mie! Allora... Sto a pensare perché sapevo qualche trucchetto. Sapevo qualche trucchetto. Ah, se vinco poi faccio anche la riga in mezzo. Ma perché te sei forte? Non lo so. Vai! Mamma mia, chi è Giotto? Incredibile! Mi sa che abbiamo pareggiato. E vabbè, vai! È pareggiata, fratello, possiamo interromperla qua. Eh no, vai, dobbiamo finirla, dobbiamo finirla. Dai, non puoi fare niente, non puoi fare niente. No, posso fare un cerchietto. Stai fermo! Eh, questo è quello venuto peggio, un po'. Ha fatto una stella, regà. Basta! Eh, devo fare il cerchietto qua io. Ma che bello questo. Questo è top, eh. Regà, è stata... No, col cazzo, col cazzo. Ragazzi, venite a me a toccarla fronte, vi prego. Eh no, ma adesso dobbiamo farne un altro finché non vince qualcuno. No, ma tu, vai te, ma tu che a te. No, no. Eh no, ma guarda. Ragazzi!